Fanno il commando della gara, for France now, Nesca Don, Byron, in the lead Giovanni Lucchetti, 4604. Sì, sono io. Se a casa non prendono il massimo. Esco, scusate, perché io oggi il pomeriggio sarei a casa. E mi hanno detto che c'è un altro negozio di cose che, chiedo mai, vogliamo oggi il pomeriggio. I giocatori di proprio attaccare la decathlon, che possono avere anche lì, la decathlon. Non per il primo round, ma...